da una civiltà che ha creato il concetto di catarsi, proviene dalla tragedia greca, quindi questa liberazione al tempo era espiazione delle emozioni, noi diciamo che invece il virale secondo noi deve liberare, deve essere catartico, e qua io ho un altro video però non so se riusciremo a vederlo perché questo forse è anche più difficile da trovare, però fa niente, non fa niente, passiamo ad altro, passiamo a un altro progetto che esprime bene questa catarsi per vedere che virale non è solo video, virale può essere una facebook application, noi qui c'è Burger King, una grande agenzia americana, si chiama Crisp Importer Plus Boguschi, che l'agenzia di Burger King si è inventata, pensate, un'applicazione che in cambio del sacrificio dei vostri amici vi regalava un hamburger, per cui voi sacrificando dieci amici, vedete Hooper Sacrifice, Hooper è un hamburger di Burger King, in questo caso era un hamburger molto piccante, per cui era legato a un concetto di fuoco, di sacrificio, eccetera, se riusciamo a vedere il video, se no forse lo trovi anche questo su internet, molto bella questa cosa, ha avuto un successo, una viralità incredibile, pensate che in pochissimo tempo hanno sacrificato più di 265 mila amici, ecco vedete, se diamo un po' di volume, audio, Voi tutti avrete degli amici che in realtà un po' vi stanno sulle palle, oppure non sono neanche degli amici, allora perché non poter epurare la vostra lista grazie alla promozione di Burger King, ecco tenete conto che Facebook ha dovuto sospendere l'applicazione dopo pochissimi giorni perché stavano decimando tutti gli amici di Facebook, la cosa bella è che ti arrivava un messaggio, ti diceva guarda il tuo amico ti ha simplificato in cambio di un hamburger, per cui vuol dire che vali meno di un hamburger, pensate quanto è geniale questa campagna di Burger King, ha avuto un successo incredibile, veramente. Ecco, l'altro punto, stiamo arrivando alla fine della mia presentazione, la rilevanza, ci dobbiamo chiedere che cos'è veramente rilevante, ma io vi consiglio di identificare la rilevanza con questi due concetti, uno sicuramente sono le emozioni universali, abbiamo visto qualche emozione, l'amore, la gioia, pensate al caso Susan Boyle, l'avete visto, è arrivato anche in Italia, questa, come dire, il brutto notroccolo, la massaia brutta che in realtà si rivela essere un angelo, con questa voce angelica, ha avuto un successo, una viralità incredibile, pensate che gioia avete provato vedendo quel video, che in realtà è costruito in maniera molto attenta e non è un caso, è tutto stato studiato. Poi invece possiamo lavorare su delle identità tribali, ecco, le identità tribali hanno, come dire, dei codici di riferimento molto precisi, questo ci permette di targettizzare, ecco, su delle tribù, tu prima Massimiliano hai parlato di community, ma noi in realtà apparteniamo a tante tribù, a tante community, apparteniamo a, andiamo in palestra, piuttosto che siamo degli harleyisti, eccetera, ecco, ogni comunità ha dei suoi codici di riferimento, ecco, per esempio questa marca di abbigliamento americano ha, qua vediamo se riusciamo a vedere il video, ha realizzato uno dei, non l'avrete visto, perché voi non siete di questa community, però vi assicuro che questo è stato uno dei video più forti e più visti qualche anno fa su YouTube, ed è un video apparentemente, come dire, amatoriale, adesso non so se riusciremo a vederlo, perché... Dove, come si chiama? È still free, ma non è facile da trovare, comunque, niente, ve lo andate a vedere sulla rete, facciamo un tentativo, se va bene, se no passiamo... Ve lo racconto io, allora, c'è una ripresa che sembra fatta da una camera amatoriale, ci sono dei ragazzi che riescono ad arrivare, ad avvicinarsi all'aereo presidenziale, no, l'Air Force One, tra l'altro questo video è stato girato ai tempi di Bush, per cui c'era anche un clima socio-politico differente, no, rispetto a quello di oggi, e uno di questi ragazzi riesce a... si vedono anche dei soldati, per cui l'aereo è molto presidiato, ovviamente militarizzato, riesce ad arrivare all'Air Force One e... Air Force Tag, forse riusciamo a vederlo... E riesce a realizzare il gesto più catartico per un writer, chi conosce la cultura writer, cioè quella di fare una tag sull'aereo presidenziale americano, no, con un messaggio di libertà. Questa cosa, ovviamente, ha avuto un successo incredibile e in realtà, appunto, era semplicemente un sito d'approdo della marca, di una marca Ecio, no, di streetwear americana e quindi era assolutamente un fake, ma realizzato con grandi investimenti economici. Ecco, Vaira sicuramente a volte viene scabbiato per low cost, ma voi pensate quanto è costato produrre questo video che, come dire, rappresenta l'aereo presidenziale americano, per cui... per una presentazione. Quindi siamo arrivati alla fine del mio intervento, ecco, il modello che vi propongo è questo. Per progettare un contenuto virale dovete identificare una tensione psicosociale, no? Quindi lavorare su una tensione e dargli voce. Questa è proprio la sintesi del modello che poi verrà presentato nel libro e che si basa proprio, se abbassate il volume del tensione, quindi tensione e catarsi di questa tensione attraverso le emozioni. Questo è il modello, non è esattamente questo qua, e si chiama Create. Qual è il ruolo dei brand in questo? E poi mi piacerebbe poi sentire il parere di Paolo. Paolo ha tante cose da dire. Ha tante cose da dire, Paolo. Il ruolo del branding, io penso che in questo momento le agenzie si stanno interrogando su qual è il ruolo del branding e come fare branding in questa società che sta cambiando, e vi assicuro che sta cambiando in meglio. Cioè la società si sta evolvendo verso un'evoluzione spirituale, per cui tenete conto di questa cosa che vi sto dicendo quando andrete a progettare le vostre campagne. Ecco, noi proponiamo di passare dal brand positioning, fondamentalmente è cercare di dare un'immagine, di legarsi a un concetto e quindi di posizionarsi su una mappa, al sense providing, al sense supporting, questo è un termine che abbiamo coniato, cioè di supportare un progetto di senso che in realtà esiste già nella società, ed è quello delle persone, perché la marca non può far altro che supportare il desiderio esistenziale delle persone verso la bellezza, verso la poesia, verso l'evoluzione, verso la spiritualità. Pensate già, come dire, Benetton l'aveva già capito tanti anni fa, oggi per esempio ci sono marche come Innocent Drink che producono, pensate, dei succhi di frutta che sono fatti di frutta. Cioè c'è dentro la frutta frullata ed è diventato il più grande produttore, è un grande caso di successo in Inghilterra, producono succhi di frutta di vera frutta, per cui un'innovazione incredibile, come potete immaginare, e questa è la loro campagna natalizia che a Natale mettono questi cappellini fatti di lana e raccolgono delle sovvenzioni per gli homeless. Oppure, ecco, a me piace molto pensare alla Toyota Prius, non so se voi siete mai saliti su una Toyota Prius, io ogni tanto prendo il taxi, a Milano ormai tutti i tassisti, quasi tutti, hanno la Toyota Prius. E davanti al loro, di fianco al tassista c'è questa immagine, fateci caso, è grande così, no? E che cos'è questo? È il sistema della Toyota Prius che ricarica le batterie, grazie appunto a una batteria elettrica, permette di consumare meno, e il tassista ovviamente è orgoglioso di spiegarti che questa cosa è geniale, che gli fa consumare la metà e che la Toyota Prius è una macchina incredibile. Questo è un progetto di senso. Quindi, i brand secondo me sono come dei partiti, le persone votano, per cui, attenzione ai vostri marchi, se votare vuol dire comprare il vostro prodotto. Quindi le persone utilizzano i brand per realizzare i propri progetti di senso, i propri progetti esistenziali. E voi, come la vostra azienda, la vostra marca, potete aiutare le persone. Allora loro vi sosterranno, allora loro compreranno i vostri prodotti. E quindi, secondo me, bisogna passare dal controllo, dalla persuasione, dalla conservazione, che era tipico del modello di advertising, del modello classico di posizionamento e di pubblicità, alla liberazione, alla relazione e all'evoluzione. Ecco, queste sono le parole che vi lascio. E quindi, brand come Sense Provider, che supporta un progetto di senso che, diciamo, ci aspettiamo, possa migliorare il mondo. Io vi ringrazio. B-Ninja. Grazie.